Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! E' un altro amicchetto! Oddio! Are you gay? Cosa c'ha detto? Are you what? Are you gay? What? Anche io ho sentito, are you gay? Are you gay? Ma cosa c'ha detto? In automatico ti faceva sovrascrivere il salvataggio, ok? Questo è. Lui per salvare la sua run di merda appena cominciata ha salvato sulla mia. No, no, non puoi dirmi che capita, no. No, non capita. Non capita. Io cancela per lo stesso errore tutto Pokémon. Già, già spoilerando tutto. C'è abituato un anno intero a sapere questa cosa di te. Ma io di mio sono veramente così. E anzi, ho messo molti più... Ho messo molti più cose di quanto non volessi. Perché guardate che la parentesi Lorenzo Paggio doveva durare molto di più. Grazie per i venti. Tutti dovrebbero avere un'amica come la zia Bocca. Vabbè, allora, grazie per i venti. E la parentesi Lorenzo Paggio doveva durare molto di più. Perché? Perché io volendo, se volevo, eh? Se avessi voluto, scuademi, se avessi voluto, potevo anche farvi tutta la parentesi... Ha senso? Ha senso il mio ragionamento? Secondo me sì. Dai, ha senso. Se ne scopri tante ci può scappare pure tu nel mezzo. Ha senso. No, 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 no. Io non posso essere uno delle tante. Non è questo il punto perché con me dovrebbe essere... Ma che ca... Sei frizzato un attimo il gioco. Ma che cazzo? Altro che gioco horror. Madonna, mi sono cagata in mano. Marco fissando il vuoto in attesa. Sì, ma pure io, raga, pure io sono tipo ti prego, esci, ti prego, esci, ti prego, esci. Comunque, anche Marco non l'ha chiesto a quanto pare, eh. È un pezzo di merda manda! Grazie mille per la scelatura in una parte. Ma odia... Cioè, non c'è, non ce n'è. La cosa più enorme del mondo. Ma non è vero, le tre... Raga, non c'è nessuno che impazzesca per tutte queste cose qua. Non è vero! Letteralmente le posto in più comune di sempre. Bro! Bro! No! Non è vero! Non è vero! Per questo dico... Infatti io ci stavo, ci sto pensando ieri. Ci ho proprio delle compagnie, degli amici che sono... Com'è la situazione? Com'è la situa? E mi fa adesso attacca. E poi, in teoria... Post live... Dove si va, raga? Dove si va, secondo voi? Dove si va? Al Mova! Sì! Al Mova a fare sesso! Esatto! Sì! Non vedo l'ora, così becco tutti i miei amichetti, i miei best friends! Io ho scoperto una cosa. Perché tipo... Allora, io mi sveglio sempre tardi perché sapete bene come... Tendenzialmente non... A parte che io sono una persona che non chiede e me ne rendo conto. Questa è una mia pecca. Io non chiedo un cazzo di niente. Perché io sono, appunto, una Wonder Woman. Quindi non ho bisogno di un cazzo di nessuno. Non so perché ho le mie tette qua dietro. Ero seduta sulle mie tette! Scusatemi. Qualcuno qua scopa, secondo me. Qualcuno qua si scopa la madre. 100-100. Per unolto. Per unolto. Per unolto. Per unolto. Per ! N aparez? Seguim! facciamo che mettiamo qua e qui andavo su ebay e cercavo tipo balenciaga felpe balenciaga robe e costava tipo 5 ma incredibile ma perché ti comprati le cose serie se esistono le cose pezzotte che non costano un cazzo scusatemi che è uguale ma non capisco parlando sottovoce per non farsi sentire delle modelline ah boh certo allora io comunque non so che fosse più ridicolo è una cosa che io non capirò mai perché dobbiamo renderci presentabili per andare al lavoro capito che intendo io ci ho rinunciato da tanto assolutamente è una cosa che non ho mai accettato e mai accetterò però avevo un concetto che non capisco perché raga ok madonna quanto pesa addio santo cavallo è uscito non la rompo delicatezza sono delicata sono delicata allora facciamo così appoggio le cose qua quindi cavallo via poi vada delicata una cosa del genere tuttora a se stessa come sfondo per sciogliare a me questa cosa fa tuttora molto ridere comunque mi hai detto che potevo farla potevo farla vedere questa cosa mi fa molto molto ridere tuttora mi fa molto ridere lei continua a sostenere che no perché c'è devo mettere una foto per prova ho messo quella vabbè un po' da boomer sì un pochino vabbè ok 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 dai vieni vieni esci esci bro taglia la scatola non voglio tagliare la scatola ma ma anche anche immagino che saranno ma anche mi vedi ad esempio gli amici che non sono streamer quindi amici e quindi devo far sì che la gente mi apprezzi per questa versione di me invece queste volte sono me stessa e quindi sono tipo non dico che giudico però mi piace dare fastidio non mi inviteranno a me più molto probabilmente credo che tipo mi odi però in dieci in nove mi odiano al dieci miliardi per cento poi vi racconto ero in diega grazie per il secondo sicuro mi odiano sicuro 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 però è divertente è divertente stavo incastrando un pezzettino stai spaccato sì ma dio ma è normale è normale o sono pazza è normale o sono cioè che è certo che compro una buona colla però dio santo ma è normale no non sono così forte raga fidatevi va bene che faccio palestra ma non sono così forzuta dio santo fai paura fai paura bro cioè compari quando oh quello delle 20 sub non l'ho toccata eh madonna che cazzo comunque c'è il stesso senso porca troia quindi finalmente vi mando a loro sto cazzo di tracking raga e vi giuro io ci ho avuto un momento in cui ho detto secondo me loro mi stanno trollando all'infinito perché continuano a dirmi controllo spam controllo l'email controllo l'account tutte cose che avevo già controllato e continuavo a rispondere raga io posso chiederlo adesso posso chiederlo ora lui fa boh mi sembra un po' tardi però se vuoi provare ok e allora tipo aspetta 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 allora tipo qual è stato il mio ragionamento ho detto poi c'è stato un momento in cui ho a caso no perché devo dare la colpa a qualcun altro che non sei io e lui tipo grazie a tutti